Venerdì a Vilminore si torna a parlare della presenza dell'orso sulle Orobie. Che cosa c'è in programma? C'è un piccolo convegno organizzato dalla regione Lombardia per la sottoscrizione di un protocollo europeo sul monitoraggio dell'orso nelle Orobie e quindi coinvolge le province orobiche, quindi Brescia, Bergamo, Lecco e Sondrio, le comunità montane, bergamasche, bresciane e valtellinesi. Quindi le amministrazioni, sia le comunità che le province, avevano aderito a questo progetto alcuni anni fa. L'Europa vuole con questo progetto protocollo di osservazione e monitoraggio della presenza dell'orso nelle Orobie. Noi sappiamo che ogni tanto qualche passaggio, qualche permanenza per alcuni periodi c'è e l'Europa vuole che si tenga sotto controllo la situazione, la si studi, la si analizzi e la si valorizzi. Questo è in termini così abbastanza ristretti il programma. Ci sarà l'assessore regionale Colucci, i rappresentanti o i presidenti delle province orobiche interessate e delle comunità interessate. Si parlerà dell'orso, anche perché l'orso nello stemma della Val di Scalve c'è e anche nello stemma del comune di Vilminore è proprio esplicitamente l'orso. Quindi direi che la zona è la più adatta. Poi salendo per queste impervie strade uno si rende conto perché ci abitava l'orso. Non è che noi siamo poi gli eredi gli orsi, forse come carattere, sì. Però qui in queste sperdute montagne l'habitat residuale ideale per l'orso c'è. In questo progetto qual è il ruolo delle comunità montane? Ma niente, è un protocollo di seguire un attimino quelle che sono le raccomandazioni, seguire un attimino gli studi che verranno proposti, i riferimenti normativi che bisogna seguire quando si dovesse verificare la presenza e l'obbligo di contattare, monitorare, seguire, e proporre, insomma, al di là degli indirizzi di massime da costruire, quindi anche perché non siamo abituati alla sua presenza quando c'è qualche danno lo fa e prevedere anche tutte queste situazioni, anche perché la presenza dell'orso qualche volta è un incentivo al turismo, qualche volta è un disincentivo al turismo, perché quando uno dice vado lì c'è l'orso, qualche volta qualche un po' di perplessità qualcuno ce l'ha, perlomeno mista un po' a tavica paura degli animali selvatici. Ultimamente sembra però se ne siano perse un po' le tracce dopo l'arrivo di JJ5 qualche anno fa. Beh, però non pare sia proprio così, pare che comunque nelle Alpi Eorobi che qualche presenza anche attuale ci sia, quindi è meglio seguire in maniera attenta la deambulazione di questi plantigredi che fanno decine di chilometri magari in una giornata e sapere come bisogna comportarsi e sapere quali sono i rischi, sapere quali sono le procedure da seguire.